Vangelo del giorno, sabato 26 giugno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarno, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente. Gli disse, verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che Tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione, va, avvenga per te come hai creduto. E in quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati perché si compisse ciò che era detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Questa pagina di Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato ci mette in primo piano due aspetti molto belli. Da una parte la grande misericordia del Signore, il suo grande amore per le anime, per le creature, per le sue pecorelle. Ma dall'altra c'è un atteggiamento che tutti possiamo imitare. L'intercessione, la preghiera per un fratello. Gli portarono degli ammalati e lui li toccava e li guariva. Gli parlarono della suocera di Pietro e lui tese la mano e l'alzò e la guarì. Addirittura questo centurione che non era un uomo di fede va da Gesù e gli parla del suo servo. E addirittura la Chiesa prende la risposta di questo centurione e la inserisce nella Santa Messa. Non sono degno che tu venga sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà salvato. L'anima mia sarà salvata. Ecco allora quanto è importante essere piccole voci dinanzi al Signore per i nostri fratelli. Sai Gesù, c'è questo fratello che soffre. Lo puoi aiutare? Sai Gesù, ho questo parente, ho questo amico, ho questa situazione in famiglia tra i miei amici, tra i miei familiari. Puoi intervenire perché tu puoi, Signore. Ecco, avere questo cuore allargato per intercedere per gli altri. Ecco perché in questa nostra famiglia noi preghiamo sempre per tutti. perché noi innanzitutto sappiamo che il Signore è solo Lui e Onnipotente e noi piccole creature ma sappiamo quanto è bello bussare al cuore di Gesù misericordioso e santo.